amore tesoro bentornata a casa ma cos'è tutto questo casino ma non ti preoccupare non guardare il casino ha fatto una cena deliziosa sediti e accomodati che arrivo lo spero per te ecco tesoro cioè mi vuoi dire tutto sto casino per una pasta col tonno per la scatoletta scolato tesoro no tesoro io mi rifiuto ma no ma dove va tesoro ma dai gli ho messo anche un filo d'olio a crudo mi piace